Un saluto a tutti da SnowKills e ben ritrovati in un nuovo video su Rainbow Six Siege ragazzi Perché oggi volevo andare a sbloccare un nuovo operatore Ho 1200 crediti R6 Quindi prenderò due operatori Uno in questo video e uno nel prossimo video Ho deciso di sbloccare Frost Frost perché mi piace tantissimo questa cosa delle trappole Quindi andiamo a prendere Conferma sblocco Ok Saltiamo la scena di presentazione Andiamo a vedere di sistemare i fucili Questo mirino va benissimo Io ci vado sempre di silenziatore Pugnatura Abbiamo solo questa E quindi ce la becchiamo Il laser no è solo veramente luffissimo Come ciondoli ho trovato in due pack Questi fighissimi soldatini Mi piace tantissimo questo Quindi ce lo vado a mettere Abbiamo sistemato quest'arma Andiamo a vedere la seconda Anche qui ci vado a mettere un bel silenziatore E poi niente abbiamo la pistola È finito E quindi adesso ci andiamo a fare una bella ranked Ragazzi Con questo nuovo operatore Che si è andato a sbloccare Mancano quattro classificate Prima delle dieci iniziali Vediamo un po' Se la riusciamo almeno a vincere Ragazzi la vorrei vincere L'ultima mi pare l'ho persa Quella prima vinta Una sì una no sto facendo Ok ci siamo Finalmente dopo quasi tre minuti Perfetto Artificieri Ovviamente mi prendo Questo nuovo operatore Mi fa schifo vai Filo spinato Sala da te And go Adesso piazzeremo le trappoline Speriamo che ci faremo finire nemici di palle sopra Tanto aspettiamo il solito tizio Impiega sei ore C'è sempre Ok Beccato in extremis Allora possiamo piazzare qui questo E ci mettiamo anche un trappolozzo camuffato in mezzo Speriamo funzioni Poi qua barrichiamo Barrico anche di qua Facciamo così Qua è anche un po' al buio Mettiamo la trappola E poi Dove potrebbero cascarci come dei polletti Qua Perché entrano Guardano in alto per vedere se ci sono nemici Oh merda Ragazzi l'istituzione si sta facendo difficile Perché c'è fuse che butta Quei cosi Granatozzi Vediamo un pochettino Se qualcuno Fuck Fuck Ok Vediamo un po' qui hanno Sfondato qualcosa Quindi Oh merda Oh merda Oh merda Dove cazzo Oh merda Cazzo 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 Ste merda di granate Tre ore da aspettare Per sto tizio che entra E spiana tutti Oh sto cazzo Di granata di merda Vaffanculo va Ah però cazzo Non gli ho messo il mirino Vabbè Non me ne frega niente Non ho messo il mirino Alla cappa Secondo round Concentrazione Cioè non posso far cagare Cazzo Vai individuiamo la bomba Sicuro come la morte Al pieno di sopra Sicuro come la morte Dopo 5 kill Che farò in questo round Eccolo Oh Proviamo a solare caveira Oh Fuck Niente Interrotto Maledettissimo Allora diamo un po' come il mirino Perfetto A me i mirini meccanici Piacciono più dei mirini Di merda Laser Sono un tradizionalista E io seguo la bomba Perché c'è Separiamoci pure Dai Montagne Siamo tutti con te Dai montagne E colline Andiamo Allora Oh shit Ah qua l'hanno già rotta Oh Ok Cazzo Goal Abbiamo preso almeno una A tutta Dove sarà Dove sarà Ok Secondo round Spianato Un assist Vabbè Non sono morto Già tanto Quindi Andiamo di nuovo Frost Non abbiamo i giubbetti Pessima scelta Allora Proteggiamo le bombe Mettiamo questo qua Ok Oh quanti 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 Spostati Ma dai Me l'ha fatta Mette male Niente Ha deciso di piazzarci Si leva Affanculo Niente Allora Ridammi anche il mio Fottuto filo di merda Ma no Cazzo Quello che vede attraverso il fumo sicuro Sta merda Sta merda Ma inculato L'ultimo attaccante Dove starà Dove starà Lo voglio pingare Lo voglio pingare L'ultima merdaccia Oh E' lì Dai Andatela Uno solo Non ci credo Non può essere Che me la perdiamo Vai Contiamo su di te Amico Cazzo Non so se seguire lui O aiutarlo a pingare Da qualche parte No Abbiamo perso Abbiamo perduto Però anche ultimo Penoso Allora Ci vado di EQ EQ Stiamo perdendo Due a uno Dobbiamo rimontare Questo game Assolutamente Andiamo a individuare Sta cazzo di bomba Stavolta la dobbiamo trovare Non facciamo come prima Ignoranti Che non l'abbiamo trovata Allora Eccone una E io mi piazzo Subito qua No ma visto Quella stronza Dai ma che sta a fa' questo Perché Cioè ti vuoi mettere A fare i trick col drone Un board slide di drone Un drone slide Questo Già almeno Si è scelto un posto figo Posso pure capire Oh bravissimo Vai Ops Dai Zbuka Ok Uno è fottuto No qui è un casino Sono rifugiati qui dentro Ok E due Top Top Dove va Sto pazzo Partito Partito Metti la faccia dentro A quel buco Nemico inutile Ok Perfetto 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 Ci ho rimollato Anche due kill Top Top Siamo pari Ancora Tutto da decidere Con calma E destrezza Ce la faremo Stavolta mi concentrerò A piazzare Le trappole In una maniera Un po' più efficiente Cercando di sfruttare Le entrate Tipo Questa qui Mi piace Va bene Non una separata Con senza entrate Una con molte entrate Dalle finestre Egoista Metto le trappole Se saltano dentro Ci rimangono incastrati Perché penso che dalla finestra Sia il modo migliore Ci fai meno caso Ed è più probabilità Che passi da lì E non che scegli La via Interna Per arrivare Anche se è più difficile Quella delle finestre Perché ti spano Vabbè Comunque Se riusciamo a frustare qualcuno Questo giro A frustate Facciamo così E ci piazzo Il più avanti possibile Così Perfetto Poi Altra qui E questo Lo metto Proprio Attaccato Qua Perfetto Che immagino Che non ci fa caso Nessuno E mettiamo qui Ok Ora Sto giro Non mi sono dedicato Ai droni Come Mettono il naso Qui Io li crivello Ok Ti ho fregato Proprio Alla grande Di più Se c'è un aggettivo Più grande Di grande Ti ho fregato In quel modo lì Da dove stanno Arrivando Ok Beccato con la trappola Cazzo Vai Vai Sei qui Stai soffrendo Stai soffrendo Ma vaffanculo Mi ha eliminato Era proprio quello che volevo fare Usarlo come trappola Ma sta merda Ovviamente Dai andatela a uccidere Però almeno Non fatelo liberare Dallo stronzetto Ok L'ho presa Va bene Vediamo un po' Se c'è Da qualche parte Dai disattivatelo Disattivatelo 4v2 Attenzione Sono morto solo io Assalto Grandi Ragazzi Grandi Grandi Vediamo Seguiamo l'azione Del disinnescatore È grande 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 Io ho scazzato Mi sono messo a fare il coglione Davanti al tizio intrappolato Ma Ma Ci siamo riusciti ugualmente Che mica ha abbandonato qualcuno Oh Incredibile ragazzi Per la prima volta Dopo Ben due volte Che mi è successo a me Di perdere un compagno in rank E di cui uno abbiamo anche vinto in quattro Per la prima volta A perdere Il compagno E la squadra nemica Quindi per una volta Giro di culo Forse forse La riusciamo a prendere Con un po' più di comodità Rispetto al solito Anche se mai e poi mai Sottovalutare Ragazzi Sottovalutare Nemici Bisogna sempre Stare in guardia Anche se rimangono in tre Perché si posizionano bene Ci fanno fuori tutti Quindi mai sottovalutare Quindi se una bomba è qui L'altra è qui Ok Quindi mi posso Piazzare Comodamente qua Vediamo un po' Se qui Che a culo Avevo immaginato Adesso passa uno Lo crivello Gratis Può stare Può stare una crivellata gratuita Ma quando mai Andiamo dai nostri Compagni Ok Meno male Hanno anche fatto fuori uno Allora Ne rimane uno E facciamolo secco noi Uno Lo andiamo a cercare Ok Round vinto Abbiamo Eliminato tutti Devo dire che questa volta però Quelli del mio team Erano più bravi Più bravi Non c'è un cazzo da fare Hanno fatto un tritume di kill Tutti quanti E' veramente un massacro E quindi GG Per questa prima Ranked Anche che poi è sempre bene Vincere una Ranked Con Frost Che alla fine Ne siamo riusciti a catturare uno Ma sono riuscito almeno a capire Di Che metterlo vicino alle finestre E' un pochettino più efficace Anche perché Non sono mai caduto Un paio di volte Nelle sue trappole Due tre volte Non troppe E quindi Per questo video E' tutto Se vi è piaciuto Lasciate un bel like E un commento Io vi saluto E ci vediamo come sempre Nel prossimo video E' Grazie a tutti.